Allora ragazzi, presento lei, a posto che andare avanti va sempre indietro, il coreografo a giovedì 111, non chiedo il suo maestro, andrà a vedere l'anno anch'io. No, andiamo io e Mirko a vedere cosa combina. Cioè, sto in alto. Forte, è suo. Forte l'applauso, Federica Barbini. Ragazzi, è ex innamorata, il suo uomo l'ha tradita con un altro, è fare il bello, le villaggi con gli occhiali e fa i video. Dico a cosa. Niente. Obriaca marcia. Intanto la... Saluta. No, 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 Luca, di... Saluta. Saluta. No. Da te. Da te.